Siamo all'epilogo di questa grande partita che ha visto la squadra di Luis vincere, 17-11, giusto? C'è bisogno, come dici. Credo che il risultato sia il meno importante in un evento così. Ringrazio Francesco per l'invitazione di venire qua a su grande città. E per noi, come squadra, è di sfruttare il massimo di questi eventi perché alla fine, come hai detto sempre, la causa è la più importante. Io non sono il tipo che se faccio quattro gol sono contento e la squadra perde. Avrebbe preferito vincere più che fare gol. Però, scherzi a parte, la serata penso che è andata più che bene. Siamo soddisfatti della gente che sia venuta e che abbia partecipato a questo evento benefico. Anche perché vedere tutti gli ex campioni è sempre un piacere, penso. Certo, il campo è un po' più piccolo, un po' diverso, però è sempre bello. Però adesso vediamo di lanciare la sfida a Madrid, la rivincita a Madrid. Chi pensi? Chi hai messo nel mirino? O Milano-Juve. O Milano-Juve, chi può essere un re adeguato? O Del Piero o Sheshenko. Ecco, i nomi li abbiamo fatti.